buona sera e bentornati nel nostro canale ciao amici e amiche allora sono stato contattato su instagram da una ragazza in california questa ragazza mi ha inviato una foto che fra poco vedrete di un avvistamento fatto con google e art ragazzi ragazze quello che state per vedere fra poco è davvero incredibile perché quando l'ho visto io sono rimasto senza parole perché per me dal mio punto di vista è un ufo è un oggetto volante non identificato è un astronave voglio anche spingermi oltre stasera perché andremo stasera su un vulcano il vulcano in questione è il monte shasta è un enorme vulcano dominante che ha quasi 4321 metri è la quinta montagna più alta della california il vulcano dormicchia ma è potente potenzialmente attivo il monte shasta ha eruttato in media ogni 600 anni e negli ultimi 4500 anni il vulcano è eruttato in media ogni 800 anni ora andiamo su questo monte su questa montagna e guardate un po cosa ha visto questa ragazza e cosa vi faccio vedere io poi ditemi cosa ne pensate nei commenti perché per me questo è un disco volante lo voglio chiamare così stasera si occhio andiamo su questo monte venite con me andiamo vai eccoci qui siamo su google ora andiamo sul monte shasta ok allora io l'ho salvato ovviamente perché sennò a trovarlo ecco qui guardate andiamo più vicino zoomiamo zoomiamo ma se capito che siamo in california quindi vabbè io comunque ho salvato la posizione e andremo direttamente sulla posizione eccoci qua andiamo ecco che eccoci qui ecco qua quando io ho visto questo questa immagine che vi farò vedere fra poco davvero vi farà grattare la testa questa immagine perché a me davvero mi ha rimasto mi sono rimasto senza parole a bocca aperta ma non voglio tenervi sulle spine perché guardate guardate questa ragazza cosa ha notato eccolo qua guarda ora ditemi voi se questo non è un ufo andiamo più vicino zoomiamo eccolo qui purtroppo raga amici e amiche quando si zuma troppo lo sapete bene anche con google lo fa si sgranano le immagini ma torniamo un po indietro che così si vede un po meglio guardate ora ditemi un po cosa può essere secondo voi dai partiamo con le opzioni secondo voi è un aereo per me non è un aereo è un miraggio un palloncino o che ne so un drone per me non è nulla del genere per me questo è un lo dico non lo vorrei dire lo dico lo dico per me questo è un astronave per me questo è un ufo un oggetto a noi sconosciuto ebbene sì io dico la mia per me quello è davvero un ufo guardate ma secondo voi ma voi vedete in giro ce ne sono altri guardate quello il sole ci sono le montagne guardate eccolo la guardate più chiaro di questo guardate andiamo un avanti diamo una bottiglina avanti andiamo su eccolo lì c'è ancora è quasi andato dietro dietro le gli alberi vediamo se c'è ancora eccolo qui guardate ma secondo voi ditemi veramente cosa pensate di questa cosa perché io davvero mi mangio le mani guardate enorme ha proprio la classica forma al quel proprio quelli sembra proprio un disco volante diciamolo diciamo sempre per me questa è proprio un astronave per me ripeto cosa devo pensare secondo voi che questo è un effetto è una nuvola guardate ma guardate io andiamo un po più avanti eccola lì c'è ancora eccola qui guardate andiamo un po più in zoom zoomiamo guardate sopra ha un bordo scuro e sotto bianco ovviamente non è proprio così se la se guardiamo se osserviamo un oggetto così da lontano sembra più diciamo la forma si nota meglio ma se andiamo un po più vicino man mano vediamo che l'oggetto si mimitizza con il cielo guardate sembra qui sotto e sembra ovale non sembra è uguale proprio solo sopra un po quel bordo nero andiamo un po più avanti andiamo avanti andiamo avanti vediamo andiamo se c'è ancora eccolo qui c'è ancora guardate pazzesco incredibile guardate ora questi qui io so che queste con google e art ci sono le auto che camminano in mezzo alla strada per farci vedere tipo come queste qua queste auto qui che girano e vanno a scannerizzare diciamo così tutta tutta la posizione le strade e tutto per questo noi vediamo da da google tutto dettagliatamente qui però non vedo strade quindi saranno degli sciatori con quei cosi in mano che che fanno così girano e per luce che fotografano tutto il non so di preciso come funziona il meccanismo comunque penso che sarà una cosa del genere perché qui strade non ce ne sono quindi macchine non ne passano quindi saranno quei questi qua che scendono con questi rosi che penso poi non lo so ripeto comunque quella è un astronave poi ditemi cosa ne pensate nei commenti questo monte questo monte è anche conosciuto come big food vediamo ecco 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 adesso è sparito guardate siamo scesi un po più giù e ora non c'è più vuol dire che quell'oggetto è stato ripreso in quel momento di quel pezzettino di strada di discesa dalla montagna da questa persona che scandalizzava il tutto quindi ora non c'è più guardate è sparito ma se andiamo un po più in alto andiamo no di qua ho sbagliato strada su pezzi aspettate dobbiamo andare di qua ecco qua se no perché ci sono due strade eccola qua di qua di qua ecco ora ora c'è sì eccolo che eccolo che eccolo guarda ora se vado avanti qui non c'è più ecco vedete è sparito questo vuol dire che l'oggetto è andato via non c'è più quindi è stato ripreso in quel in quel quel attimo che il ragazzo scendeva ragazza ragazza chissà chi non so chi sia e poi è sparito quell'oggetto vedete non c'è più nel cielo non si nota più ma se torniamo un pezzettino indietro vediamo che ricompare eccolo qui vedete eccolo qui ora se era un effetto ottico rimaneva all'inizio dove siamo scesi dalla montagna avete visto ma questo oggetto invece è sceso insieme a questo diciamo è sceso insieme può darsi che l'oggetto era dall'altra parte poi è passato sopra non lo so gli spostamenti che ha fatto questo oggetto ma comunque fatto sta che l'oggetto si è mosso ha camminato perché lo vediamo qui in basso adesso mentre prima era molto più in alto guardate adesso andiamo ancora su ancora su ancora su eccolo qui eccolo qui ecco vedete quindi vuol dire che questo oggetto scende insieme a questo a questa questa persona che mappa che mappa tutta la zona quindi è un oggetto in movimento ok ora torniamo un po più indietro andiamo un po più indietro vediamo se c'è ancora qui eccolo qui c'è ancora ma torniamo su andiamo su andiamo su 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 torniamo da dove siamo partiti vediamo un po ecco fermiamoci qui vediamo se c'è eccolo qua guardate ora avete visto giù in basso c'era l'oggetto e adesso è su alla montagna di allora questo fa significare che l'oggetto scende contemporaneamente insieme a questa persona o no secondo voi ora andiamo un po più in giù eccolo qua guardate 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 come si nota meglio adesso c'è anche questo riflesso bianco sul lato destro dell'oggetto guardate pazzesco pazzesco io io davvero io sono davvero curioso di sentire i vostri commenti sono davvero curioso perché voglio capire voi cosa pensate di questo oggetto io davvero sono o i brividi perché per me questo è davvero un oggetto non lo voglio dire ma lo voglio di come lo dico alieno per me questo è un oggetto a noi sconosciuto magari non lo so magari sarà anche un oggetto americano un belivolo sperimentale che a noi ovviamente non ci diranno mai queste cose perché sono cose top secret oppure non credo che sia un belivolo russo attenzione perché è in territorio americano quindi credo che o almeno che i russi non è che ce l'hanno ecce guardate la volta detto come si vede bello così ma io 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 amo questo oggetto io davvero sono magari i russi non è che hanno anche loro questi velivoli e possono andare qui e lì non riescono nemmeno a far decollare i caccia che già sono andati via hanno una velocità in hanno degli spostamenti a noi che ce li sogniamo nemmeno la notte perché questi velivoli vanno a una velocità mostruosa eccolo qua guardate ora si vede ancora meglio guardate queste immagini di prima però a me mi piace tanto qua da qui guardate guardate come riflette bene sembra che la luce riflette nell'oggetto guardate dai 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 siamo sinceri ora ora vorrei sentire vorrei sentire davvero a uno scettico quelli che non credono che dicono ma sempre sfogati ma ma sempre sempre quelli lì che trovano sempre il pelo nell'uovo quando dicevo cerchi sempre il pelo nell'uovo ora a questi qua vorrei dire che cos'è quello dimmi cosa può essere davvero dai sono curioso ragazzi sono troppo eccitato scusatemi perché è davvero bello questo oggetto è davvero incredibile guardate io qua stare a questa ragazza quando mi ha mandato questa foto su ha detto ma secondo te un'astronavia aliena mi ha detto io quando ho visto ho detto oddio o mamma dove dimmi la dammi le coordinate dammi le coordinate per ti prego ho detto dove l'hai visto e lei rideva eh vabbè non posso farvi vedere i commenti perché ovviamente riservato lei ha detto assolutamente non voglio apparire non voglio che mi menzioni in questo video fai quello che vuoi ti ho fatto vedere la posizione mi ha dato le coordinate e ho messo un po di tempo a trovarlo perché mi ha dato una posizione più in basso mentre era qui in alto comunque sono stato mezz'ora per trovarlo eh e quando l'ho visto oddio sono stato così più di dieci minuti a fissarlo perché davvero incredibile questo filmato davvero pazzesco vabbè raga io non so cosa altro farvi vedere se no questo oggetto mi ha fatto vedere andiamo un po più in basso questo è molto famoso questo vulcano è questo qui è stato è stato al centro di tante leggende leggende questo questo monte andate a informare a informarvi su questo monte il monte shasta in california è davvero ci sono ci sarebbe veramente un libro da 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 scrivere su questo monte perché sono accadute tante cose sono state anche avvistati dei bigfoot come ripeto come ho detto all'inizio del video quindi ho mi sono andato un po a informarmi su questo moto è davvero ci sono storie incredibili su questo monte veramente incredibili bello 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 andiamo un po più in giù ritorniamo dove eravamo prima eccolo qua ok dai ragazzi io non so più cosa altro dire al riguardo se no aspetto i vostri commenti e ditemi per favore davide ma sei impazzito quello non è un'astronavia aliena quello è un ovviamente poi direte la vostra che cos'è quello perché per me quello è un oggetto non identificato quando è un oggetto non identificato è un ufo ovviamente io non ho mai visto una cosa del genere per favore non mi scrivete dirigibile o tra robe varie per favore non mi fate non mi fate venire qualcosa per favore ok dai io io concludo spero che vi sia piaciuto l'oggetto l'immagine guardate qua guardate voi io io sto stare ora guardarlo però ripeto la l'immagine più bella per me è quella in alto quella da dove siamo partiti prima è davvero incredibile davvero davvero incredibile eccolo qua guardate un pochino in alto eccolo qua guarda come si nota bene non è un riflesso un riflesso del sole è tipo questo qui guardate eccolo riflesso solare ma questo è proprio si vede proprio che un oggetto metallico e poi anche quella striscia nera comunque quella spaccatura al centro adesso è da questo lato ma non so se anche dall'altra parte c'è quel quel segno non lo so comunque il riflesso è questo qui c'è questo qui come questo come questo poi come questo qui eccolo qui un altro un altro ancora questi sono riflessi ok eccolo qui guardate ma non questo ok dai raga è tutto andiamo un po più vicino andiamo più vicino eccolo qua guardate un po ditemi 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 un po per me che cos'è io vi ho detto la mia magari magari può darsi che mi sbaglio magari può essere che ne so boh io non mi voglio inventare nulla voglio il vostro parere e scrivetemelo nei commenti eccoci giunti alla fine del video miei cari amici e amiche spero che avete trovato interessante questo oggetto avete visto la grandezza di questo oggetto io ho detto la mia ora tocca a voi scrivermi nei commenti di cosa può essere secondo voi che cos'è quell'oggetto vi prego rispondetemi aiutatemi perché io sto in impazzendo questo oggetto mi ha davvero sconvolto perché per me per me è chiaro di quello ora vediamo che vi faccio vedere che se questo video girerà scompare quell'oggetto dal da google vi faccio vedere perché davvero inedito perché non ce ne non ce ne sono video di questo presunto oggetto non andate a cercarlo nei video perché non lo trovate sicuramente perché l'ho fatto già io non ho trovato nulla quindi per questo è un video inedito un oggetto inedito ok ok ragazzi e ragazze voglio ringraziarvi ancora per tutto l'affetto e il sostegno che mi state dando per il like che mi mettete ogni settimana per i commenti per i complimenti grazie 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 vi voglio un mondo di bene ok tu che non sei ancora iscritto scriviti al mio canale così mi dai una mano a crescere tanto non costa nulla ok ragazzi e ragazze ci vediamo la prossima settimana che sto mettendo su un'altra bellissima raccolta di tanti avvistamenti ne ho talmente tanti di filmati che davvero sono sono non so quale 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 scegliere credetemi sono all'imbarazzo della scelta ok dai io vi saluto ci vediamo la prossima settimana con un altro nuovo video e mi raccomando occhi al cielo ciao 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 ciao